nel mio lavoro racchiudo tutte le mie passioni da quando avevo 15 anni giorno per giorno il mio obiettivo è quello di creare il look giusto per ogni donna mi sento come se fossi un pittore che dipinge ogni volta una nuova tela e la tela non è altro che la rappresentazione delle mie clienti è fondamentale per me il sorriso che ritrovano grazie al loro look rinnovato e per farlo cerco di conoscerle di osservarle ed immaginare al primo sguardo il loro cambiamento